A Torre del Greco, numerose le guarigioni registrate nella giornata dell'Immacolata. Sono 36 nuovi guariti e 10 soggetti risultati positivi al Covid-19, il dato che attesta il trend di diminuzione dei casi nella città. Sono attualmente 628 positivi, di cui 27 ricoverati, 1.518 guariti e 48 decessi. Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonaiuto, annuncia una discesa della curva di contagio. Al momento si riscontrano 602 positivi, in virtù dei 124 guariti e 28 casi positivi negli ultimi giorni. Il primo cittadino ci tiene però a lasciare un messaggio alla popolazione di Ercolano. Non bisogna abbassare assolutamente la guardia, tantomeno lasciarsi andare a facile entusiasmi. Dobbiamo continuare a combattere la nostra battaglia contro questo virus, in attesa del vaccino, che appare giorno dopo giorno in un orizzonte più vicino. Sono 22 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al Covid-19 nella giornata di ieri. Cinque di essi presentano i sintomi lievi della malattia. Tra i nuovi contagiati c'è un bambino di 7 anni, uno di 11 e uno di un anno. Contagiato anche un novantenne. Dichiarati inoltre 26 persone guarite dal virus. Dati che continuano a preoccupare la città, che conta 1.556 tuttora positivi, 954 guariti e 27 deceduti. Situazione che fa sperare il sindaco di Bosco Reale, Antonio Diplomatico, che annuncia i dati del contagio nella città. La situazione attuale si conferma il miglioramento, con un buon numero di guariti pari a 321, su 535 cittadini risultati positivi. I tamponi effettuati in questo stesso periodo sono stati 3.495 ed aggiunge, ci sono stati altresì comunicati 8 decessi a causa del Covid ed è alle loro famiglie che rivolgiamo le condoglianze da parte di tutta l'amministrazione.